dirvi che sto facendo una serie che voi non vedete perché youtube l'ha bloccato sia il primo video che ho messo ieri che questo che ho messo oggi questo che ho messo oggi mi è costato uno strike e quindi per quelli che vogliono vedere questa roba lo potete trovare venendo qui sul mio telegram chi vuole io sto facendo dei video che purtroppo non posso pubblicare su youtube ormai perché mi bloccano mi sto caricando sul mio beat shoot il link sia del mio telegram dove pubblico questo video giornalmente che del mio beat shoot sono in descrizione al canale youtube arrivederci